Con la dirigente dell'Istituto Mennella, la professoressa Di Guida, per parlare di questo inizio di un nuovo anno scolastico, mai come quest'anno immagino che ci sia la voglia di iniziare un percorso nuovo, Preside? Assolutamente sì. Vogliamo riprendere una didattica fatta di incontri, di presenze, di sguardo affettuoso da tutti i docenti e anche con gli studenti. Vogliamo che la scuola torni a essere un luogo di incontri e di socialità. Quindi veramente ci stiamo impegnando tantissimo perché il rientro in aula possa avvenire nel migliore dei modi. Devo dire che quest'anno, a parte le incombenze amministrative e gestionali legate al Covid, c'è un'importante novità. Veramente il MIUR ha mantenuto l'impegno che aveva preso con noi dirigenti e ci mette in condizione di poter iniziare le attività dell'anno nuovo con il personale quasi al completo. Nel giro di pochi giorni sono arrivate nelle nostre scuole decine e decine di docenti, o assunti in ruolo finalmente dopo anni di precariato, oppure nominati con incarico annuale. E devo dire che veramente è la prima volta che accade questo in tutta Italia e in particolare in Campania. Quindi noi partiamo con l'organico docenti al completo e questa veramente è una grande novità. Questa è un'ottima notizia. I temi che sono sul tappeto e che riguardano il mondo della scuola in queste settimane ruotano un po' ancora intorno all'emergenza sanitaria. Dal punto di vista del Green Pass, vaccini, qual è la situazione dell'Istituto Mennella per quelle che sono le informazioni a sua disposizione? Noi ovviamente ci siamo organizzati per garantire tutte le possibili precauzioni e tutte le disposizioni organizzative per evitare il contagio. Abbiamo quindi non solo la misurazione della temperatura per tutti gli operatori e anche gli studenti che entreranno a scuola e ci siamo attivati anche per il Green Pass che devo dire in questi primi giorni non ha dato particolari problemi anche perché il numero di personale in servizio era ridotto avendo io deciso di continuare le riunioni collegiali a distanza. Problemi non ce ne sono stati. Devo dire che qualche docente ha fatto di recente la vaccinazione quindi ha dovuto comunque esibire il tampone in attesa che prenda piena validità il Green Pass. Però devo dire che dal punto di vista del personale c'è molto senso di responsabilità e credo che perlomeno da questo punto di vista non dovremmo avere problemi. Insomma possiamo dire che la scuola anche questa volta, non solo l'Istituto Mennella ma il mondo della scuola ha risposto presente? Assolutamente sì, ma questo lo dobbiamo dire a chiare lettere. La scuola è uno dei settori dell'amministrazione pubblica che è più rapida, più efficace nel gestire le nuove disposizioni organizzative e anche durante il Covid di fatto noi ci siamo attivati da subito per la didattica a distanza, poi da subito per la didattica digitale integrata. Ora siamo pronti anche a riaprire finalmente le scuole alla didattica in presenza. Lo facciamo con senso del dovere, con senso di responsabilità perché ci sta a cuore la formazione dei nostri studenti che non è retorica, veramente rappresentano il futuro della nostra nazione. Quindi siamo contentissimi di poter accogliere il 13 settembre i nostri studenti in presenza in tutte e tre le sedi dell'Istituto Mennella. Io volevo salutarla però dandole la possibilità di fare un appello ai suoi studenti e ai giovani in generale. Che cosa si sente di dire prima dell'inizio di questo nuovo anno scolastico? Io dico loro di avere fiducia nella capacità della scuola di gestire le situazioni ordinarie e straordinarie. Noi siamo pronti e saremo al vostro fianco per tutte le possibili complicazioni che si dovessero verificare quest'anno. Lancio poi un appello affinché tutti gli studenti leggano con attenzione i protocolli che abbiamo prodotto in questi mesi per garantire il massimo della sicurezza possibile. Perché con la sicurezza non si scherza ragazzi, ma ancor meno si scherza con il vostro futuro e con il futuro della nostra nazione. Le scuole devono essere aperte nel migliore dei modi e con la garanzia per tutti gli operatori, voi compresi.